4 anni, vincitori da 10.000 a 25.000 nella carriera 1 Bucefalo, Palferma, Sabato di Vincenzo, 2 Birago, Romano Tamburrano, 3 Bacoli, WF, Mario Minopoli, 4 Barterelle, Tommaso Di Lorenzo, 5 Beverly Star, Antonio Di Nardo, 6 Brigitte, GSO, Roberto Vecchione, 7 Belmarino, Giorgio D'Alessandro, 8 Blue Sky Pax, Gian Paolo Minucci, seconda fila, 9 Boato di 9, Vincenzo Luongo 10 Bizzi di Casei, Luigi Cimino Parte piano, Brigitte, GSO, al pari di Blue Sky Pax e Belmarino Stacco della macchina, ne ha ne va, Beverly Star è davanti, scende alla corda e si installa al comando Meno di 100 metri, Beverly Star, comando alle operazioni Avanti a Bucefalo, Palferma, i 200 iniziali in 13,7 Dalla seconda fila, veloce, Boato di No Per linee esterne, Birago 400 In decelerazione, in 29,1 davanti alle tribune Beverly Star, Battistrada Nei confronti di Birago, a largo si porta presso Bizzi di Casei, per linee esterne anche Bart RL Si formano più pariglie all'altezza dei 600, al termine dei quali Birago sopravanza Beverly Star e passa in vantaggio 44,3 il parziale della testa Birago, nuovo leader all'imbocco della seconda piegata nei confronti di Beverly Star Rimane in fuori scoperta Bizzi di Casei, quando si è al completamento degli 800 in 59,5 Si va verso il chilometro passato da Birago in evidenza nei confronti della coppia composta Beverly Star e Bizzi di Casei, mille di gara in 1,14 da parte del leader che controlla la situazione a 500 dalla conclusione Birago in vantaggio nei confronti di Beverly Star Poi Bucefalo, Palferma, Edizzi di Casei, gli altri che faticano a venire avanti Lungo Birilli, Boato di no, 13,9 da dritto opposta Accedere in progressione, Birago che si mantiene 1,5 avanti a Beverly Star All'ingresso della dirittura arrivo, Birago è in vantaggio su Beverly Star A 150 la conclusione, Beverly che parte all'attacco, rimonta palmo a palmo Birago lo coglie in difficoltà, Beverly Star in piena spinta Che viene a vincere netta in fondo, 1,5 meglio di Birago 1,56 e mezzo al totale, 1,12,8 la media al chilometro Che è record in carriera per Beverly Star Gruccione Jet, Antonio Di Nardo, il numero 5 al primo posto E nelle immagini sembrava aver fatto tutto a Modino Birago Che però nei 150 metri conclusivi ha dovuto flettere A Beverly Star, infine nettamente vincitrice Terzo Bucefalo, Palferma, 5,2,1 L'ordine arrivo dell'ottava e ultimo Grazie! 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 Grazie!